ben ritrovati nella mia home gym oggi vi voglio mostrare questa cintura per la schiena bassa la parte lombare che ho acquistato su aliexpress ad un prezzo di 12 euro spedizione inclusa link in descrizione del prodotto premessa non è una cintura professionale da 100 euro quindi ovviamente se usate in modo diciamo amatoriale va più che bene se poi volete qualcosa di più professionale dovete spendere di più e ovviamente magari la piattaforma aliexpress o amazon non è proprio quella ideale dove trovare questi prodotti livello alto andiamo a vederla comunque insieme perché per quello che faccio io quindi squat sollevamenti mi aiuta comunque a tutelare la schiena bassa ea comprimere si tratta come vedete di una cintura doppio strato quindi c'è questa fascia esterna il materiale è bello resistente anche le cuciture sono ben fatte abbiamo la parte invece interna che in più quindi una pelle sintetica e questa parte dura e imbottita all'interno e pure imbottito su questa parte soprattutto non so se si vede e da un centimetro di spessore quindi va a comprimersi dietro e poi abbiamo questa fascia che va attaccarsi al velcro e che passa qui all'interno della filia di metallo in modo da stringere la cintura come vedete io ho preso la taglia l quindi la lunghezza totale della cintura è di 99 centimetri ma ci sono anche diverse taglie la mxl dovete un attimo andare sulla pagina del venditore e capire attraverso le misure che vengono elencate qual è la taglia per voi più adatta se avete domande non esitate a pormele link in descrizione del prodotto alla prossima recensione grazie a tutti